benvenuti a tutti in questo nuovo episodio di weeklix il podcast sulla finanza personale e sugli investimenti in questo nuovo episodio numero 60 qui con noi ospite anzi non ospite ormai siamo siamo fedelissimi in questo caso di casa con noi paolo di domenico ciao paolo ciao a tutti ciao a te ci rivediamo mi fa piacere dai anche stavolta vedi nonostante il periodo non proprio felice siamo qua siamo qua a registrare dai a proposito di periodo non felice cioè ormai siamo abituati a tutto da quando c'è c'è il covid tra pandemia di recessione tutto e parliamo a proposito di queste tematiche dei dei cali dei crolli di di mercato e in questo periodo quindi quando stiamo registrando questo podcast stiamo assistendo a una correzione dei mercati chiamiamolo così poi vediamo dal punto di vista tecnico perché è domanda iniziale qualcuno si è spaventato avete venduto paolo tu tu hai venduto tutto sui massimi ho venduto sui massimi adesso sto aspettando che facciano al minimo per rientrare per scherzare con con andrea bosio che è un altro fedelissimo di casa di questo podcast abbiamo tipo creato un prodotto solo per noi in cui compriamo ai minimi e vendiamo da perdi dal cento per cento esatto guardi non ti sbagli ah beh ma sai ma te esce sempre sta questa cosa qui sta di attribato problematica e adesso è scoppiata scoppiata la guerra e viene iniziano a uscire fuori le domande ragazzi ma non come anche su i ricks ho visto recentemente ma non viene chiudere tutto e poi rientrare ciclicamente esce purtroppo la risposta a questa domanda è assolutamente no nel senso che dal punto di vista chiaramente umano sociale è dura dura è negativa come cosa e ci colpisce un po tutti dal punto di vista della gestione dei propri investimenti invece però non bisogna farsi non bisogna farsi influenzare diciamo che se ti fai prendere dal panico su questi eventi eh che succedono sono sempre successi e succederanno diciamo che vuol dire che non hai una strategia di investimento vera e propria e soprattutto cioè non sai forse come come investire e poi succedono in realtà due dinamiche chi cioè si è un po polarizzante quando viene viene una correzione o un crollo di mercati però proprio c'è chi eh spaventato eh proprio scappa da dal mercato e chi invece magari preso dall'avidità e dice ok adesso della liquidità la investo tutto in realtà entrambi questi questi due poli opposti quindi paura da una parte avidità dall'altra sono problematici perché il primo è ci proprio questo podcast proprio ci eh riferiamo a questo tipo di 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 persone spaventate ehm cioè praticamente non hanno una strategia primo secondo eh non credono al fatto che come è sempre successo il mercato nel lungo periodo sale quindi non credono alla ricche al diciamo alla all'aumento di ricchezza un po generalizzata nel mondo perché alla fine cioè noi stiamo investendo in aziende e quindi eh cioè l'innovazione tecnologia abbiamo parlato tante volte queste cose dall'altro lato invece può sembrare un'idea intelligente nel senso ok io c'è una correlazione una correzione nel mercato fa l'SP500 facciamo finta che il faro dei mercati fa il meno 10 come sta facendo in questo periodo eh io butto la liquidità che c'ho però in realtà è sbagliato anche in questo caso anche in questo caso non c'è la strategia perché come è successo nel con la crisi del 2008 i mercati possono scendere per 500 giorni quindi magari magari è buttato tra virgolette sprecato la liquidità al che so al meno 10 poi il mercato ti fa meno 50 cioè in realtà il futuro non lo sa nessuno e quindi dalla parte all'altra ci sono ci sono questi due errori sicuramente lo dici bene dici bene Matteo infatti eh non sai quando sei all'interno sai quando il mercato tira sempre sui massimi rompe sempre i massimi storici e uno ha della liquidità da parti eh viene fuori la liquidità e cioè dice eh cavolo adesso se ci avessi messo di più quando crollava e viene fuori la liquidità e la non paura invece quando crolla poi uno dice ma perché cavolo ci ho messo troppo sì su questo discorso di liquidità è molto importante effettivamente noi adesso stiamo assistendo a una correzione di mercato una correzione di mercato tecnicamente è una correzione che va più o meno dal 10 fino al 20 per cento oltre al 20 per cento vuol dire già mercato bassista mercato orso di lungo periodo poi anche qui c'è un c'è da specificare perché poi non è detto che il mercato orso poi duri quanto deve durare quanto dura come è durato ad esempio il 2008 magari il mercato rimane qualche giorno in territorio orso e poi risale come ad esempio hanno fatto gli indici europei il 7 di di marzo hanno fatto una un ribasso che li ha portati in territorio orso il mercato orso e fanno ribalzato di brutto quindi sono già fuori da quella fase per la sua liquidità quindi sì sono discorsi la liquidità è molto importante non bisogna assolutamente tra virgolette giocarsela tutta perché noi non sappiamo questa correzione che è una correzione che ci va a risolvere in giro di due tre mesi oppure è qualcosa di più di più grande quindi capisco che però chi ha un portafoglio investimenti ci faccia questa domanda cioè in queste fasi qui io cosa devo fare col portafoglio devo movimentarlo di più movimentarlo meno o semplicemente non devo fare niente per assurdo in una condizione di questo tipo la strategia giusta la strategia giusta è quella di non far proprio niente e cioè seguire proprio piano di investimenti capisco che ci potrebbe essere quel discorso proprio aggressivo e cioè ogni tot tipo di meno 10 meno 20 uno potrebbe essere preso dall'abilità e dire guarda in questo mese invece di comprare una quota di quelle tf ne compro due tre ci potrebbe stare è un atteggiamento un po aggressivo però io comunque per quanto riguarda la gestione di un portafoglio se uno è un investitore risparmiatore quindi non è che sta sul mercato la mattina sera io consiglio di seguire il piano di trading e non fare nient'altro e non fare l'entrata perché dopo si inizia a focalizzarti sui movimenti questi qui di movimenti di prego e poi ti assorbono e assorbono e poi fai degli errori perché poi tra l'altro c'è anche il concetto che se tu guardi troppo gli investimenti poi ti fai prendere dal panico per assurdo e quando ci sono queste fasi qui l'account di trading l'account di investimento non andrebbe visto non andrebbe visto perché se tu guardi tutti i giorni ti fissi su quei numeri che saldo e scendono ti crea emotività quella roba ti crea emotività pensi di essere forte di non chiudere poi alla fine chiudi poi alla fine chiudi vendi 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 sui minimi casualmente e poi quindi sì io consiglio di essere completamente distaccati dai propri soldi che è difficile è la parte più difficile in assoluto perché uno poi legge notizie negative guerra roba e ti chiede ad aprire l'account invece no proseguire sul proprio piano e legarsi no oltre a non aprire l'account che è giustissimo o comunque noi stiamo parlando di investimenti lungo periodo quindi a che serve se un tuo etf un tuo titolo fa il meno 5 per cento cioè non ha cioè lo guardi magari ti viene il magone ti viene un nodo alla gola per dire sto perdendo dei soldi e poi tu già iniziando cioè quando hai iniziato a investire sai che il tuo obiettivo è cinque anni sette anni dici anni trent'anni cioè non ha senso guardarlo dopo sette mesi e la seconda la seconda cosa legata a questo come detto te è spegnere la tv cioè noi lo diciamo ogni ogni due podcast diciamo è un mantra ma perché è vero c'è nel senso cioè se ci pensi anche tipo nell'editoriale del mensile che è uscito questo mese ho messo un grafico che aggiorno molto frequentemente nel senso che è il grafico dell'esp 500 dal 2008 fino a giornato giornale cioè quasi costantemente e mostra tutti gli avvenimenti peggiori che sono successi cioè per l'umanità quindi le guerre la pandemia le tensioni crisi crisi recessioni di tutto e di più insomma cioè c'è uno se leggesse questo grafico dice c'è senza la linea ok del prezzo dice cioè se un marziano guarda questo proprio vabbè c'è anche mondo vivo insomma ma tutto ma è tutto sì 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 invece se ci metti la linea del prezzo vedi che praticamente non si dico che è una linea la bisettrice che sale sempre però c'è scende poi risale scende poi risale ma quando sale sale più di quanto scende infatti eh ed è uno poi degli argomenti questo podcast eh una notizia un po' che forse qualcuno non conosce che ogni anno da quando si ha memoria e quando esiste la borsa c'è una almeno una correzione dei mercati non è strano non è strano non deve non deve suonare strano il fatto che un anno c'è un calo del meno meno 10 per cento la media è che il mercato scende intranualmente quindi durante l'anno del meno 13 per cento quindi ed è come diceva paolo stiamo assistendo a non a un crollo ma ho sempre più ribasso a una correzione quindi dal 10 al 20 per cento poi dipende dai casi si parla di di correzioni che ripeto sono normalissime sì su questo discorso mi hai aperto due due pensieri il primo è eh sul per quale motivo gli investitori oggi dovrebbero essere ansiosi come detto prima uno se dovesse leggere tutti i titoli eh dei giornali cosa vedrebbe oggi vedrebbe che è una situazione abbastanza raccapricciante cioè tiriamo fuori in che contesto stiamo di mercato uno su mercato ma poi ci sono le notizie che stiamo muovendo il mercato ne citiamo qualcuna eh così rispondiamo alla domanda ma perché gli investitori dovrebbero essere ansiosi allora discorso guerra russa ucraina che comunque speriamo rimanga eh diciamo concentrata lì e e e che finisca anche prima possibile perché poi è chiaro che più una roba dura più a livello di poi di perdite di vita umane è un problema a livello sociale e casino a tutte le parti e l'inflazione è la è la più alta dagli ultimi quattro decenni potremmo dire ce l'abbiamo in America 7.9 per cento ma anche in Europa 5.9 lo scherziamo la fed per la prima volta dal 2018 sta ristringendo la politica monetaria eh lunedì noi stiamo registrando oggi venerdì diciotto marzo eh beh mercoledì la fed per la prima volta è aumentato il tasso di eh interesse quindi chiaramente questa qui può essere una preoccupazione se dopo anni e anni di tra virgolette droga monetaria eh si ristringono si ristringe eh un po' la liquidità e questo chiaramente è un elemento di disturbo eh stiamo assistendo in questi mesi abbiamo assistito al crollo al mega crollo dei titoli tecnologici ad alta crescita eh eh che nel duemila e venti per una piccola parte del duemila e ventuno erano saliti come se non ci fossero domani eh e abbiamo assistito a un crollo epocale per quei tipi di titoli è stato un vero e proprio duemila e otto cioè ci sono dei titoli che si sono praticamente azzerati meno settanta meno tanti quindi chi era molto sbilanciato in quel settore diciamo ha preso delle botte mica mica da ridere c'è un mercato immobiliare che bolla praticamente tutte le parti del mondo eh ci sono carenze del punto di vista del lavoro problemi sulla supply chain mancanze di materie prime prezzi di materie prime al rialzo per come se non ci fossero domani il mercato azionario stiamo vedendo appunto queste correzioni per alcuni sono correzioni per altri crolli e tra l'altro è l'ultimo argomento dulcis in fondo perché chiaramente non ci possiamo far mancare niente stiamo uscendo da questa situazione di emergenza sanitaria anche se ultimamente purtroppo stiamo vedendo che c'è quasi una come si può dire una un'ondata di ritorno quindi dalle notizie che ci arrivano dalla Cina per dire la Cina è da poco che ha messo il lockdown a tutto tutta la città di Shenzhen che comunque non sono due persone sono diciassette milioni di persone quindi un lockdown lì vuol dire altra tensione sulla catena di approvvigionamento perché le merci arrivano da lì quindi il quarto porto più grande del mondo ecco e quindi chiaramente quella roba lì potrebbe andare a peggiorare ulteriormente quindi vedete qui quanti ci sono tantissimi motivi per essere ansiosi assolutamente però come dicevo prima per assurdo la borsa gli investimenti la gestione dei propri investimenti è uno di quegli aspetti della vita dove fare meno potrebbe essere o non fare niente potrebbe essere la soluzione migliore che se ci pensi Matteo è una roba assurda perché tutti gli altri aspetti della vita invece non è proprio così perché fare di più ad esempio a leggere di più studiare molti migliori a scuola studiare migliori a scuola allenarti di più e di solito comporta dei miglioramenti non è che da quel punto di vista su quegli aspetti non fare niente o fare addirittura meno comporta dei problemi nella vita degli investimenti è esattamente il contrario negli investimenti ci sono dei periodi come questo in cui non fare niente in cui non fare niente fermarsi legarsi all'albero mestre come vege ulisse per non cedere al canto delle sirene può portarci al risultato migliore non movimentare il portafoglio non movimentare il portafoglio perché è come detto prima già scendere all'operatività allora è chiaro che un conto sono investimenti di lungo di lungo periodo come un portafoglio che guarda 5 10 12 anni un conto ecco la piccola parte degli investimenti non abbiamo una mente c'è su quella tre su questo tradix dove gestiamo un portafoglio di azioni allora a quel punto lì non dico che devi fare un po di un po di market time ne avevo parlato in un podcast passato è però lì la gestione del rischio diversa non puoi dire ma questi titoli ce lo teniamo dentro perché tanto poi risale è un altro tipo di gestione sappiamo che i titoli purtroppo a fronte di un mercato generale come l'SP500 che può fermarsi o meno 5 o meno 10 un titolo può andare a zero ecco quindi lì è una gestione completamente diversa però per un risparmiatore investitore che ha il 90 per cento del capitale su investimenti di lungo periodo il mio consiglio è di non muoverlo e di non muoverlo soprattutto in questo periodo perché si fanno dei macroerrori enormi e dopo non si rientra più avevi un grafico dopo magari lo mettiamo la legia magari ce lo monta dopo lo mettiamo spiegala sta cosa interessante c'è un grafico di jp morgan allora lo prendo così vediamo se riesce a metterlo si è perfetto sì 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 questo grafico che state vedendo con il titolo stare fuori dal mercato riduce i rendimenti degli investimenti il discorso che stava facendo paolo mostra come quindi prendendo riferimento il faro dei mercati cioè l'indice più importante a livello globale in questo momento che è l'SP 500 cioè l'indice americano che fa da paniere alle 500 più grandi aziende a livello americano poi a livello globale in pratica e quindi tiene conto di un investimento di 10 mila euro fatto dal 2 gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2020 quindi in pratica quasi 20 anni e quello che mostriamo è diciamo evidente nel senso che se il discorso che facciamo prima se rimani sempre investito i tuoi 10 mila euro diventano 42 mila 231 che è praticamente l'istogramma più a sinistra se invece preso dal panico per qualsiasi motivo stai fuori dal mercato nei 10 giorni migliori praticamente cioè hai dimezzato il tuo guadagno infatti da sempre un investimento di 10 mila euro avrai 19.347 euro e così così via fino a quando se rimani fuori dal mercato nei 60 giorni migliori praticamente il tuo investimento di 10 mila euro non ha rendimento anzi c'è una perdita 2441 euro tra l'altro cioè contenendo conto magari dell'inflazione eccetera eccetera è anche meno quindi no poi c'è un altro c'è un'altra statistica interessante che è che è questa praticamente i giorni migliori del mercato sono quelli che avvengono praticamente quando c'è un grosso ribasso quindi l'abbiamo visto questa cosa c'è l'esempio forse che mi viene più lampante è quello del marzo del 2020 ok quando è scoppiata la pandemia il mercato faceva meno 12 poi il giorno dopo faceva più 7 poi faceva meno 5 e poi più 4 se ti perdi quei giorni soprattutto magari quel mese dopo il picco negativo che c'è stato cioè il tuo rendimento praticamente è risicato se non come abbiamo visto in questo caso cioè facciamo pinta che guardiamo questa statistica cioè se rimani fuori dal mercato nei 30 giorni migliori praticamente hai sempre una perdita quindi da 10.000 a 7.400 perché vuol dire che ti prendi tutti i ribassi in pratica l'ha fatto la scorsa settimana mi ricordo sì dopo gli indici europei la scorsa settimana ti ricordi il NASDAQ l'ECP sì 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 ma soprattutto l'Europa perché l'America è rimasta abbastanza resiliente in questo periodo evidentemente si è avvantaggiata del casino che è successo in Europa la scorsa settimana l'Europa ha fatto un minimo veramente enorme il 9 marzo il 9 marzo sui istini europei sul DAX ma anche sul funzionario italiano sul DAX il tuo paese c'è stato un rialzo dell'8% che non è un caso che sia arrivato dopo un ribasso che l'ha portato a oltre il 20% tra l'altro è sceso in modo verticale quindi questo discorso è assolutamente vero quindi se uno fa il grandissimo errore di fare market timing è di dire ah ma io rimango adesso quando come tu come fai a beccare il giorno del minimo se ti perdi quel più 8 di rimbalzo di quel giorno poi nel lungo non bisogna guardare a una settimana due settimane ma guarda da 5 10 15 anni la perdita in conto capitale che ti trovi è una roba pazzesca sì quella statistica è veramente una roba una roba ghiacciata è veramente una roba assurda quindi sì è il discorso dell'attivity bias in pratica c'è uno dei più grandi errori comportamentali che abbiamo detto nelle introduzioni di questo podcast cioè cercare di fare market timing tra l'altro abbiamo fatto un podcast io e Paolo su questo tema quindi magari andatelo a riprendere e di nuovo c'è praticamente chi scappa dal mercato una notizia negativa e chi invece proprio va cerca di fare acquisti vendite quando c'è quando c'è tensione c'è gente che lo fa di lavoro ma c'è dato che la maggior parte di noi il 99 per cento cioè non noi che ci lavoriamo ma il 99 per cento magari che ci ascolta non fa il trader professionista ma esatto per cento di altro lavoro cioè è inutile cercare di seguire il trend del momento senza soprattutto una strategia tra l'altro mi ricollego e leggo una anzi due due bellissime citazioni riguardo a questo tema una di Grama che è maestro di Buffett e di Buffett stesso il primo cita cioè cito l'investitore intelligente è un realista che compra dai pessimisti e vende dagli ottimisti il secondo un ribasso di mercato non ci preoccupa è un'opportunità per aumentare a buon prezzo la nostra proprietà di ottime aziende con un'eccezione un'eccezione nazionale management cioè queste due grandi citazioni ci fanno capire come un ribasso di mercato praticamente non è un altro cioè non è altro che un'occasione per acquistare praticamente a sconto a saldo infatti è proprio questo il discorso che volevo fare non so se qualcuno abbia pensato che i ribassi magari devono cioè li puoi potete pensare come se fossero veramente dei saldi ma adesso sono finiti i saldi invernali poi verranno quelli estivi e poi di nuovo quelli invernali cioè i mercati fanno così c'è una correzione quest'anno poi ce ne sarà un'anno prossimo però che cosa succede quando ci sono i saldi correte fate la fila per prendere quel capo di Zara quando invece ci sono i saldi tra virgolette del mercato invece scappate a gambe lavate cioè è più o meno lo stesso cioè possiamo usarla come metafora questa sì sì c'era un detto di borsa se non sbaglio su questa cosa la borsa è quel luogo è quel negozio dove quando i prezzi sono alti il negozio è pieno e quando i prezzi sono a sconto il negozio è vuoto sì sì è bellissima questa cosa qui però non è facile Matteo effettivamente sì e poi è effettivamente un altro tipo di operatività quindi è giusto eh ad esempio quello quella è una frase di Buffett cioè essere avidi quando gli altri hanno paura però è chiaro che va contestualizzata cioè lui è un investitore nazioni e quindi chiaramente fa quel tipo di attività però non è una frase quella che può essere eh può un investitore di lungo periodo può far suo perché cosa vuol dire quando trova tutto allora via faccio all in faccio i debiti no infatti eh esatto quindi va contestualizzata comunque cioè Warren Buffett è un investitore allora per me è da prendere così nel senso che è la premessa per poi eh inserire la cioè più che premessa è eh l'idea di avere fiducia nella pianificazione di lungo periodo cioè tu stai poi un'altra cosa che volevo già dire eh all'inizio è il fatto che ehm cioè chi esce nel mercato dal mercato chi esce dagli investimenti perché è spaventato da per esempio facciamo finta dalla guerra tra Russia e Ucraina ok praticamente sta pensando che mhm implicitamente cioè magari non lo pensa veramente o comunque non è il pensiero più forte in quel momento però eh l'idea di sottofondo c'è che eh l'occidente in qualche modo mhm praticamente scompaierà perché comunque una guerra dice ok c'è la guerra mondiale oddio che sta succedendo però eh andare contro l'occidente cioè nel senso non so quanto sia conveniente questo discorso anche perché io non vedo nessun ehm elemento di 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 sfiducia barra di 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 malessere nella diciamo nella nell'economia occidentale poi possiamo parlare di di morale di queste cose che magari ok su quello eh su quello potremmo parlare ma dal punto di vista economico cioè eh andare scommettere sul fatto che mhm ci sarà la terza guerra mondiale che il capitalismo scompaiera eccetera eccetera secondo me è un'idea completamente sbagliata anche perché dall'altro lato cosa c'è? C'è il comunismo cioè nella Russia abbiamo visto cosa dal punto di vista economico cioè cosa ha portato il comunismo cioè miseria quindi da questo lato non so quanto sia sia conveniente no se uno allora se uno pensa questo cioè gli scenari tragici quello che dovrebbe fare è che preoccuparsi proprio degli investimenti zero e costruirsi comprasse un bel bunker vedi che c'è la notizia che la gente si sta comprando i milionari si stanno comprando il bunker come se fosse la soluzione sì perché poi in un mondo post nucleare sarebbe bellissimo vivere chiaramente quindi vedi sono finti problemi nel senso che è vero ci sono i rischi ma sono rischi che vengono fino a certo punto è come preoccuparsi della caduta dell'asteroide cioè nel senso che se succedesse anche uno scenario di questo tipo e mi possa assicurare che gli investimenti sarebbero la meno la meno dei problemi sì assolutamente questo discorso poi non bisogna neanche essere ciecamente ottimisti dicendo che va tutto bene le problematiche ci sono questo è chiaro eh però eh chiaramente quello che contraddistingue un investitore soprattutto di lungo è questa è essere razionalmente ottimisti cioè aspettarsi che le cose non migliorino che le cose migliorino perché altrimenti poi si vive anche male eh da questo punto di vista si vive anche male cioè chi è che vive serenamente aspettandosi sempre il peggio c'è un vecchio detto che dice eh nel breve mi aspetto il peggio però nel lungo mi preparavo il meglio cioè è una roba del genere capito e che magari le cose possono funzionare prima di migliorare bravo no 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 e secondo me eh collegandomi al discorso di prima è il pensiero che devi avere sui ribassi cioè allora io sto sono un investitore che sto per iniziare mh ho capito che devo investire nel lungo periodo ho pianificazione ho comprato planix e va benissimo però se sentendo questo podcast so che ogni anno devo stare male perché c'è un ribasso capisco che è il futuro cioè aspetteranno sfide eccetera eccetera cioè alla fine io allora perché devo investire e il discorso è semplicemente perché l'investimento nel mercato azionario nel tempo ha ampiamente dimostrato il fatto di essere eh un generatore di ricchezza e cioè tu stai dato che stiamo investendo appunto eh maggiormente magari sul sul mercato azionario un po' dipende dai portafogli eccetera eccetera però sono sono le imprese generative di ricchezza l'abbiamo detto anche all'inizio quindi cioè il pensiero da fare è quello cioè io sto investendo sul fatto che l'economia cresce e prima tra l'altro eh su proprio riguardo a questo aspetto qui sì l'economia proprio in senso generale a livello mondiale mi ha fatto venire in mente una cosa dicendo questa specie di diciamo tenendo fuori questo aspetto cioè la spaccatura che si è creata nel mondo e cioè da blocco potremmo dire che questa roba che sta succedendo tra la Russia e Ucraina abbia segnato in qualche modo la fine della globalizzazione quindi eh il concetto di diversificazione degli investimenti adesso potrebbe valere più di prima perché perché è normale che ehm tu prima hai parlato di occidente quindi eh chiaro che eh noi negli ultimi sessanta settant'anni veramente abbiamo usufruito di un grado di di crescita di prosperità come eh mai nella storia chiaramente anche l'occidente non non siamo i salvatori della patria nel senso che anche noi quella quella prosperità e quella quella pace sia avuta anche a costo di altre cose sono anche qui è chiaro che si vuole dipingere una parte di mondo cattiva e roba così eh su questo aspetto diciamo che non sono eh totalmente d'accordo però è chiaro che eh veniamo da sessanta settant'anni in cui vedi le persone più o meno a livello macro sono andate in pace proprio per questo del mondo è eh si è riuscito a sviluppare riuscito a svilupparsi in questo modo adesso sembra che si vada verso una fase di contrazione si iniziano a limitare eh la la libera si iniziano a limitare i capitali eh le persone i viaggi diventano difficili anche la libera circolazione di merci anche diventa complessa quindi a questa fase in questa fase qui il concetto della diversificazione secondo me è molto importante perché noi chiaramente che viviamo nel mondo occidentale pensiamo che il mondo occidentale sarà leader anche tra dieci quindici vent'anni questa qui è una visione molto sbagliata consiglierei di adottare invece la visione dei asiatica e cioè degli asiatici a pensare cioè che eh il mondo è ciclico e quindi quello che è stato non è detto che sarà in futuro questo per dire cosa? Per dire che mh anche ridurre tutto sai molto molto spesso senti gente che dice vabbè ma dato basta che metto tutto sull'SP500 e vado avanti a vita hai capito? Il mio capitale sicuramente crescerà per i prossimi quindici, venti, trent'anni. Attenzione a questa cosa qui attenzione perché nella storia noi abbiamo visto che ci sono eh stati casi in cui il pack di lungo periodo non è che è funzionato sempre tu pensiamo a te uno che si è iniziato a fare un pack di lungo periodo è iniziato a fare un in sul nicchie 225 ah sul picco del 1989 cioè dopo trent'anni e massa lui i soldi non l'avrebbe mai visti perché quello è un mercato che quei massi non l'ha mai visti come ad esempio un pack sai qui eh in Italia eh ma la maggior parte di investitore è innamorato degli investimenti locali quindi immobiliare BTP e azioni italiane cioè azioni. Così detto on-bios. On-bios in pieno on-bios investe solo con questo qui ma vorrei ricordare che chi ha fatto un pack sul Fuzzimib nel 2008. Nel 2008. Eh o appunto se tu li stavi nel 2000 avevi un piccolo nel 2008 ma qui quei livelli con il famoso 44 mila punti non l'abbiamo più raggiunto. Poi c'è da dire che eh il Fuzzimib è un indice che non reinveste i dividendi e quindi è stato generoso a livello dei dividendi quindi se tu aggiungi al livello che è arrivato quindi 28 mila punti qualche settimana fa il flusso cedolare in questi dieci anni. Non ci saresti andato pari con il livello del 2008 ma avresti comunque ottenuto qualcosa. Ma al di là di questo aspetto questo vi fa capire che anche investire all-in e puntare tutto su un sullo Stato è enormemente sbagliato perché le cose a livello mondiale possono cambiare. Questa roba qui che è successa purtroppo noi ci auguriamo che il conflitto chiaramente finisca prima possibile ma chiaramente ha creato una frattura a livello mondiale ha creato una frattura a livello mondiale e quindi attenzione ai pesi. Attenzione a considerare tu pensa che era investito magari totalmente su asset russi? Che cosa può essersi trovato in portavoglio? Quindi questo aspetto è molto importante e la diversificazione credo che perché sai molto spesso ci si riempie la bocca diversificare diversificare annoia anche un po' come è un argomento che è un po' noioso diversificazione ho capito però questi questi eventi qui che stiamo vedendo oggi e cavolo ci fanno capire come una diversificazione ti possa avanti possa fare in queste fasi perché purtroppo queste cose questi rischi di coda possono esserci quelle specie di cigni neri ci possono essere e purtroppo e credo che non sarà il primo non è il primo e credo che non sarà neanche l'ultimo quindi ogni investitore deve avere purtroppo deve farci deve avere a che fare sul discorso del che stai dicendo del blocco non lo so cioè secondo me non lo potremo sapere se ci sono se ci sono due blocchi occidente e oriente nel futuro però secondo me è un bel discorso c'è da 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 non da approfondire proprio da da vedere da viverlo e sul discorso invece sul sulla globalizzazione secondo me c'è la globalizzazione non si interromperà sei ottimista sei ottimista sono un grande capitalista su questo sono ottimista sul capitalista sul capitalismo e boh non lo so è tipo l'altro giorno registriamo il 18 marzo un qualche giorno fa la cina detto si è espressa in maniera positiva sul fatto della borsa non so se avete seguito la notizia io sono stato un sacco felice quel giorno perché a parte essere investitore azionista di qualche azienda interessante cinese guardata sul mercato americano ma oltre a quello mi fa pensare che si vogliono staccare da quel blocco che dicevi te quello quello un po comunista quello 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 soviet quello russo per abbracciare un po la il capitalismo che poi cercando di essere razionali in realtà secondo me non è neanche così è un po' come un blef però io sono sono super 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 fiducioso vedremo tra tra 50 anni come smetteranno le cose probabilmente sì probabilmente anche meno chiaramente lì in cina no non si può effettivamente definire lo cino lo stato comunista perché se fosse uno stato comunista non avrebbero permesso la la libera impresa e quindi neanche la la creazione di quelle mega multinazionali a che sono venute su sul sulle purghe che ha che hanno attuato sul loro comparto tech ne potremmo parlare da un certo punto di vista è stato giusto ad esempio in america hanno fatto esattamente il contrario cioè hanno lasciato il far west e quindi che pochi punti che pochi gruppi e diventassero dei colossi come mai successo nella storia e dove sta la verità è nel mezzo io sono assolutamente contro la centralizzazione quindi come che lo stato comunque deve mettere becco negli affari privati perché comunque ogni volta che lo stato mette mette le mani negli affari privati nell'economia succede disastri e così storicamente però anche dall'altra parte una deregulation totale comunque aver permesso che insomma che certi gruppi di certe aziende si affermassero in questo modo magari dall'altra può essere un po' pericolosa hai capito però sì sul fatto che la che la cina da questo punto di vista si stia aprendo anche i capitali internazionali questi quando permetterà magari che dei capitali internazionali possano effettivamente investire sul territorio cinese senza che poi il rischio che poi il governo di vada lì a confiscare proprietà privata e altro è sicuramente molto positiva è molto positiva in un periodo però vedi proprio perché non si può sapere questo aspetto qui è per quello che bisogna diversificare questo è il discorso qui non sappiamo effettivamente se la cina sarà la prossima potenza mondiale e ci sarà il declino degli stati uniti non si può sapere i segni purtroppo ahimè ci sono e noi da questo punto di vista saremo dalla parte sbagliata da stava che questo caso però al di là di questo sono cose che comunque vengono negli anni se non decenni quindi adesso ragionare su questo aspetto è limitante ti salvi effettivamente solo con un approccio diversificazione quindi a tutti i miei che dicono che uno sai guarda le mcsi world dice vabbè ma faccio il pacco in sopra lì dentro tu hai il 60 per cento delle aziende che sono americane è perché sull'economia più grande per forza quindi abbe metto tutto lì sopra sì anche sto concetto non lo vedo pure tutto dollaro è tanto un dollaro è la valuta di riserva mondiale poi si scopre che l'arabia saudita accetterà one dalla cina per però per il discorso del petrolio e quindi uno potrebbe quindi vedete anche il discorso del petrodollaro quindi l'influenza del dollaro a livello mondiale potrebbe cadere anche quella cosa quindi diversificazione territoriale diversificazione valutaria questo concetto è molto noioso è purtroppo noioso si sa ma vale molto è molto importante questa cosa qui è molto importante io e matteo farei un per ripieno gare perché poi sai qui si va si va si va a braccio sono tutti argomenti poi che andrebbero esplosi in un modo assurdo e ne sarebbe da parlare a tonnellate però ricapitolando questa cosa qui quindi gli errori che gli investitori diciamo potrebbero commettere durante una correzione io sono cinque sei punti alla fine li vorrei ricapitolare e poi magari andiamo andiamo a chiudere diciamo quindi come il discorso che facevi prima cioè non riuscire a rispettare essere resi al panico quindi non riuscire a rispettare il proprio piano di investimenti vendendo cercando di fare market time vedo sui massimi come sui minimi non abbiamo fatto vedere prima abbiamo parlato solo brevemente faccio vedere un grafico che fa vedere il rendimento di fine anno dell'indice americano sp500 cioè come ha chiuso da inizio anno alla fine dal 1980 al 2021 e mostra come avevamo detto all'inizio di questo di questo podcast che nonostante un calo medio intranno del 14 per cento i rendimenti dell'indice dell sp500 sono positivi 33 anni su 42 e dal grafico si vedono dei pallini gialli in questo questi pallini gialli sono i cali che ogni anno durante l'anno ci sono stati su questo sull sp500 quindi questo legando mio altro altro discorso c'è adesso avete anche il grafico che mostra che non è solo la lotteri teoria la nostra ma è vero che ogni anno c'è una almeno una correzione correzione ripetiamo è quando un mercato scende dal 10 per cento quindi almeno del 10 per cento mentre poi parliamo di mercato orso quindi di vero crollo quando c'è appunto una discesa di almeno il 20 per cento come vedete sono pochi pochissimi gli anni in cui un calo intranno e delle superiore al 20 per cento c'è statisticamente credo sia ogni 5 7 anni poi con 5 7 anni esatto un calo un calo del 20 e più assolutamente questa statistica poi del calo c'è solo puramente appunto statistica perché non vuol dire che in futuro nel 2020 c'è stato c'è stato un crollo del 34 per cento vuol dire che ok adesso faccio il calcolo 5 oppure 7 anni da quel momento e ci sarà un altro crollo adesso investo in questa maniera chiaramente non è così è una media quindi non cioè prendete prendetela come 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 statistica come come c'è la storia alla fine ti rappresenta il contesto non il cioè quello che verrà in futuro e però adesso almeno avete anche il grafico quindi anche la pratica e non soltanto la teoria comunque stai facendo un bel bel riassunto del del podcast è molto importante sì questa cosa quindi vedi anche a fronte di queste statistiche chiaramente la statistica non è una scienza esatta però diciamo ci sono dei dati e quindi potrebbero essere utili appunto per rimanere fermi sulla propria strategia rimanere diciamo fermi sul proprio piano di investimento ancora prima avere un piano di investimento perché prima di rispettarlo ce lo devi avere quindi se uno non c'ha proprio niente è proprio sbagliato di per sé ma questo è un altro discorso noi speriamo che insomma almeno qualcuno parta da una base decente confondere anche il proprio risultato temporale potrebbe essere uno degli errori quindi trattare uno ad esempio a un portafoglio dove ha investimenti lungo periodo e investimenti di breve confondere i due quindi trattare investimenti lungo periodo come investimenti di breve infatti su questo io consiglio di non avere tutto sul conto cioè di avere un conto per il lungo e un conto per il breve proprio per non avere questo disallineamento a livello temporale cercare di fare market timing che abbiamo detto prima e vi rimando al precedente podcast che appunto abbiamo fatto con matteo e da qui quindi cercare di fare market timing che significa fondamentalmente cercare di fregare il mercato di essere più furbo del mercato perché io ne so di più e quindi riesco a comprare i primi più più che del mercato anche del degli altri investitori cioè chi parteceva al mercato cioè tu stai dicendo io sono più bravo di tutti perché riesco a comprare i suoi minimi di Buffett i massimi sono più bravi di Buffett e non non purtroppo allora può succedere può succedere ma per pura fortuna che uno riesce a comprarsi il minimo di un movimento ma è è un gioco a perdere non c'è niente da fare poi uno non è che ora lo deve provare questa cosa qui provate poi vedete che nel lungo porta provate magari con le azioni e vedrete che è molto più difficile di quello che uno che uno pensa l'altro errore appunto è prestare appunto attenzione a quello che sta succedendo quindi andrà a vedere i propri investimenti aprire la piattaforma di 3 di 3 degli investimenti dove uno ai propri etf e controllare in modo compulsivo tra l'altro te ne accorge perché se durante la correzione quando scoppia un casino tu lo fai più di quando lo facevi prima cioè magari prima lo controllavi una volta al mese adesso lo controlla tre volte a settimana quello è il sintomo che sta iniziando a cedere magari non c'è di subito sei forte però mi posso assicurare che fa male fa malissimo vedere i propri investimenti fluttuali questo discorso chiaramente vale per gli investimenti lungo periodo per quelli di breve per il trading e queste cose qui è chiaro che invece vanno visti anche con una certa regolarità non è che si può lasciare la roba a fluttuare però sono due tipi di operatività avete capito quindi questi diciamo sono i 6 7 errori che gli investitori commentano durante una correzione e che sinceramente andrebbero evitati per concludere il podcast Matteo io andrei a vedere a questo punto come proteggere gli investimenti che ci sono gli errori e poi però alla domanda ok va bene tutto questo però come possiamo proteggere i nostri investimenti durante il crollo se c'è il modo di proteggerli completamente noi abbiamo detto prima che possiamo fare tutte le strategie tra virgolette di edging che ci pare di copertura che ci fare ma se scoppa la guerra nucleare ma abbiamo anche detto non si possa fare niente se viene un casino così ma abbiamo anche detto che è inutile preoccuparsi di questa cosa perché è come non uscire di casa perché si ha paura che cada un fulmine e ho capito ma allora non è inutile preoccuparsi come detto tenete come la mentalità giusta da avere essere pessimista nel breve e ottimista nel lungo secondo me vivi la vita felice bella 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 mentalità sapendo che ci sono rischi cioè tu contempli non dico una visione mai fatto un bellissimo articolo ultimamente una visione stoica una visione stoica anche se sui propri investimenti si ci sta può aiutare può sicuramente aiutare come mentalità quindi si direi diciamo che non ci possiamo proteggere completamente cioè dai rischi della vita diciamo dei rischi che noi corriamo personali assolutamente sì ci sono assicurazioni validità assicurazioni sulla morte quelle eh chiaramente eh ma anche anche uso uso una parola che adesso sistemiamo allocare eh cioè gli investimenti nella maniera corretta nel senso un conto è avere facciamo vinto un patrimonio di centomila euro e investirli tutti su l'MCI World che l'hai nominato prima e facendo cioè pensando di diversificare un conto invece sto sempre inventando è il 3 per cento da una parte 3 per cento dall'altra il 20 da una parte comunque diversificando bene e secondo me è un un miglioramento ehm cioè questo ti aiuta a sopportare i ribassi perché eh sempre un conto è avere cento avere il meno 20 per cento su 100 mila euro un conto invece è avere un che so un etf un'azione che ti fa il meno 20 che però rispetto al portafoglio investito rappresenta il il 2 per cento secondo me la vivi in maniera molto diversa assolutamente sì i pesi è una cosa sì i pesi sono è un altro aspetto che assolutamente importante sì soprattutto per la parte quella legata al breve periodo sì 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 cioè bisogna stare attenti che gli investimenti quelli di breve come azioni come possono essere anche altri strumenti finanziari poi non ti vadano a mangiare il piano di lungo eh quindi voglio dire attenzione cioè deve essere costruita una strategia tale per cui se gli investimenti quelli di breve di trading azioni derivati quello che è vanno male vanno male eh non ti devono andare a compromettere un piano della 10 15 20 anni quindi per forza che devono essere devono rappresentare una piccola parte del portafoglio che anche se fluttua e ti ritrovi con dei meno 50 meno 60 eh non è che sei contento però diciamo dormi la notte ecco questo è sicuramente un aspetto è un aspetto molto importante sì questo sui pesi è molto e su questo discorso appunto sul come proteggere i propri investimenti credo che anche il conoscere se stessi ignoti e saluto la scritta sul templo di delfi e conosci te stesso direi che questa cosa qui perché poi sai uno può parlare di teoria quanto quanto ci pare ma possiamo parlare di teoria quanto ci pare ma poi non è mai come viverla è sul mercato la correzione coi propri investimenti con i propri soldini che fluttano quella è una roba è una sensazione che non possiamo insegnare eh valutate voi davanti alle correzioni davanti ai crolli come a livello emotivo come state però potrei dire una cosa sicuramente se la vivete male evidentemente avete sbagliato qualcosa questa mi viene da dire sì se uno soffre eh sì se uno soffre eh come un cane perché crolla tutto perde il sonno evidentemente c'è qualcosa di sbagliato nella pianificazione ecco questo sicuramente lo dico ve lo dico anche per esperienza personale quindi legato a questo anche se sei esperto cioè comunque ehm quando c'è stato il crollo del 34 per cento nel 2020 cioè anch'io un po' non un po' cioè ho sofferto quei giorni cioè mi risentivo tutti eh quindi sia cioè prende questa cosa prende sia l'investitore alle prime armi che l'investimento cioè Warren Buffett e secondo me un'altra piccola eh un altro piccolo aiuto è quello in quei momenti rileggere ristudiare tutti questi statistiche grafiche eh che fanno capire appunto che ti fanno avere fiducia poi nella tua strategia nel nel futuro e cioè che si poi si riprenderanno le cose chiaramente eh sì bisogna sì che in qualche modo questi rischi poi vengono appiattiti se tu vedi tutte le correzioni che nel lungo periodo ha fatto l'SF500 eh poi nel lungo sembrano piccoli crolli eh sì non è facile essere distaccati capisco è molto un un miglioramento ehm e mi ricollego sempre a quello che vedete su che cosa puoi fare durante un ribasso eh non fare niente eh fare di più o fare fare di meno ovvio quindi qui c'è queste sono altre cose eh come diceva Taleb eh less is more in questo caso quindi eh fare meno è meglio cioè la cosiddetta via negativa ehm cioè se se avete paura eh cioè se hai investito i soldi in quel momento hai paura eh è meglio che non fai nulla eh cioè non fai activity bias cioè comprare e vendere market timing eccetera eccetera non fare nulla e pensa ad altro eh non aprire il conto trading odio dove hai gli investimenti e aspetta diciamo il e si è ottimista sul sul lungo periodo e della cosa secondo me è migliore in questo caso assolutamente e poi il terzo e ultimo aspetto perché poi eh il resto del degli aspetti di come protegge rispondo appunto alla domanda di come protegge i propri investimenti poi sono anche gli errori quindi il discorso dell'orizzonte di lungo periodo fare all in o all out sui massimi sui minimi avere un piano che abbiamo visto anche prima il terzo aspetto che è la cosa che abbiamo preso all'inizio del podcast è l'aspetto della liquidità sì quindi ok le abilità sì ci può stare ma eh io la user è più un concetto per la per la parte più speculativa del portafoglio per il trading sul discorso del lungo periodo invece una buona percentuale della liquidità io me la metterei da parte e me la lascerei da parte cioè non siate avidi alla prima correzione del meno 10 perché perché purtroppo non si può sapere se questo meno 10 poi si trasforma in 2008 quindi è vero che in questi ultimi due anni è il mercato abituato che è salito sempre ha fatto dei rialzi pazzeschi e quindi chi è rimasto fuori ha una specie di di rammare quotidiane quella roba lì di capo mi sono perso due anni di rialzi adesso che tu lo vedi scendere all in via meno 10 non vedevo l'ora rientrare eh ho capito ma se il mercato dopo dopo due anni sta iniziando a scendere uno qualche domanda se la dovrebbe fare magari non succede niente di che però attenzione a eh sprecare tutta la liquidità al primo segno del basso cioè ehm questa è una roba molto ehm molto importante questa roba perché la capisco umanamente ci sta eh sei comunque deluso dal fatto che ti puoi essere perso dei rialzi e entri in fomo entri in fomo dice ecco adesso è la mia occasione e poi dopo meno 10 ti trovi un meno 40 e non hai più liquidità del no infatti una una delle domande che ci viene fatta più spesso è una una persona che sta facendo un pack e c'è un ribasso dei mercati cosa fare lo metto un altro cipino cioè teoricamente in realtà non dovresti farlo perché appunto tu non sai quanto dura questo ribasso quindi la domanda domanda poi la facciamo noi a te nel senso e cioè meglio farla adesso che c'è un meno meno 5 oppure non c'è nessuno lo sa non lo sappiamo noi non lo sai te eh tra un mese questo meno 5 è diventato un meno 30 e invece sarà quello il caso in cui dover fare questa in questa integrazione in più cioè dato che non lo sai allora meglio seguire la strategia e questo per rispondere alla domanda che che magari qualcuno qualcuno ha che eh che ci potrebbe fare e quindi assolutamente anche perché non è detto che la correzione sia come la correzione anzi già non lo è di fatto la correzione che a cui abbiamo assistito nel 2020 è nettamente diversa da quella di oggi questa è una correzione più corposa più distribuita che è durata di più lì fu un evento a ciel sereno non se lo aspettava nessuno poi il mercato ha fatto quello che ha fatto perché c'è stato un interventismo epocale l'intervento delle banche centrali e dei governi è stato epocale chiaramente tu il tuo debito e quel debito poi è un calcio al baratto le vediamo e vediamo chi lo paga quindi non è stato a costo zero eh dal resto c'era una grande depressione si rischiava una grande depressione quindi vedi si è scelto il meno dei mali oggi la correzione a cui stiamo assistendo ha più dinamiche effettivamente dal 2008 adesso io non è che la voglio tirare con questa però è diversa attenzione è diversa perché questa qui è una correzione che è frutto di un'incertezza futura di un'incertezza futura ripeto due anni fa fu risolta mettendo sul mercato una quantità di trillioni da parte delle banche centrali come mai successa nella storia quest'anno eh si va al senso opposto cioè le incertezze i rischi ci sono e le banche centrali stanno iniziando a tirare la rete dalla liquidità quindi vedete che il contesto è totalmente totalmente diverso io eh Matteo volevo concludere questo podcast con una frase di Morgan Housel che tra l'altro ha fatto un libro che secondo me è uno dei libri più belli della storia dell'economia proprio dei concetti sì è un po' come ha dei concetti molto raffinati ehm è diverso da Taleb cioè Taleb eh anche lui è molto raffinato nel pensiero però per alcuni potrebbe essere complicata come lettura invece Housel ma via un libro eccezionale la psicologia soprano della psicologia dei soldi lui parla della volatilità vedi prima dicevi del rischio della flutuazione potremmo definire la volatilità come il prezzo la multa insomma come il prezzo da pagare il prezzo del biglietto da pagare per rimanere investiti questo è un concetto molto 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 che secondo me ci sta ci sta sì il prezzo del biglietto assolutamente sì 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 ed è da pagare perché sappiamo che appunto ci sono periodi come questo dove è proprio facile per tutto quel discorso che tutto il discorso che ci siamo fatti fino adesso quindi volevo concludere con questo con questo maiciero che mi pareva secondo me eh ci abbiamo fatto una una bella rassegna su quelli che sono rischi pericoli su sui ribassi del mercato e abbiamo dato qualche aiuto tra l'altro prima stavo per spoilerare un la strategia che abbiamo su planix su come gestire la liquidità poi ho fatto ops e no abbiamo dato sicuramente qualche 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 aiuto anche anche importante su su come gestire il i ribassi ribassi eh secondo me possiamo chiudere questo podcast con una domanda ok a fronte di questo tipo degli argomenti di questo podcast quindi sapendo che ci sarà un ribasso ogni anno e quindi in futuro ci saranno sempre ribassi e e anche crolli quindi la domanda è eh il prossimo crollo del mercato non è questione di se se ci sarà ma è questione di quando ci sarà quindi eh sarete pronti ad affrontarlo avete avete già una strategia ehm questo podcast vi ha dato una mano vi ha dato qualche suggerimento idea in più eh se volete fatecelo sapere anche su su wikileaks che tanto il nostro gruppo facebook lì magari poi la comunicazione è più immediata poi tra l'altro di questo argomento crolli e correzioni ne stiamo parlando comunque tutti i giorni quindi veniteci a seguire anche sul gruppo sì e anche per questo podcast ci siamo direi grazie Paolo di questa chiacchierata grazie a te grazie a tutti sia chi ci ha ascoltato e chi ci sta guardando da su youtube e buona giornata buona serata e grazie a tutti ciao 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 Grazie a tutti